La candela La candela è l'unità della intensità luce, dove l'intensità è qualcosa come un percentaggio che non soffre se le quantità sono relative o assolutamente. Quindi possiamo iniziare da la unità di candela di 54 x 10 riusciti a 13 cicli ogni seconda, o Hertz, per avere la unità corretta dell'elettrono. In realtà possiamo mostrare questa unità come 0.00054 x 10 riusciti a 18 cicli ogni seconda. E abbiamo la stessa quantità. Ma ora, con la quantità 18 e il potere basato su 10 cicli. Qui il potere 18 è quello del potere atomico, 18, delle molecole di acqua. mentre il 0.00054 è l'elettrono dell'elettrono dell'unità dell'atomico. La candela è l'unità dell'atomico. La candela è l'unità dell'atomico. L'atomico è l'unità dell'atomico. del 10 ciclo dell'atomico. L'unità dell'atomico è il 100% delle componenti di spazio. avendo due le direzioni positivi e negativi nelle tre componenti cartesiano. Quindi avendo sei componenti nelle sei esistenti. mentre la divisione per 100.000 è la moltiplicazione di 10 risorse a minus 5 angstrom. C'è l'unità dell'atomico. Unità dell'elettrono dell'atomico. Nel 10 risorse a 10 delle uniti di spazio. per quantificare l'unità dell'elettrono dell'atomico. Quindi possiamo essere sicuri che il numero 54 del candela rappresentano esattamente le 9 energie in la completa intensità delle 6 componenti che esistono come le 6 corde del sistema ortogonale. Quando l'unità dell'unità è 10 risorse a minus 5. e possiamo essere sicuri che abbiamo la quantità assoluta delle particole che oggi è mesurata da un'altra unità perché non è una quantità assoluta ma un'unità unitaria che è esattamente la quantità della differenza referente all'atomico assoluto unità trattata dalla intensità unitaria dell'elettrono. e quindi ricordando alle candela possiamo avere la quantità assoluta dell'elettrono in unità atomica.